Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questa tipologia di video la farò più spesso sul mio canale. Ho pensato che in questo video vi potrà aiutare o a risparmiare soldi o anzi di darvi qualche idea e qualche suggerimento di quello che veramente avete bisogno. Iniziamo con questo set di tre coperturi per alimenti in silicone. Io l'ho provato, mi trovo molto molto bene. Per cui io vi faccio vedere varie varietà, vi faccio vedere ogni cosa che ho comprato e in che modo li possiamo usare. Per la vostra comodità proverò a lasciare i link di tutti i prodotti sotto la descrizione. Per la vostra comodità proverò a lasciare i prodotti sotto la descrizione. Per la vostra comodità proverò a lasciare i prodotti publi�� questi guanti sono una meraviglia come colori c'è anche verde io ne ho presi rosa e veramente sono molto molto morbidi piacevoli resistenti per me è un sì questo è un contenitore con coperchio vetro trasparente capacità 2 litri voi lo potete usare anche chi di voi ama tipo fare bevande con zenzero con questi purificanti o per dimagrire o semplicemente dei tè adesso che arriva l'estate secondo me questo contenitore sarà molto utile io invece l'ho preso per un scopo specifico preparo il detersivo in casa qua ho messo la buccia di arancia ho messo rosmarino e ho messo dentro anche aceto ok lo portiamo in frigo in questo modo io mi faccio detersivo e lo teniamo in frigo per due giorni anche 3 sarebbe meglio dopo due tre giorni prendiamo questo aceto con questa grumi con questo rosmarino io faccio così prendo un po di acqua un po di questo aceto e guardate specchio lo lavo con questo detersivo per calcare e un super anticalcare ecco e la cosa meravigliosa è che disinfetta molto molto bene è un po di acqua questo contenitore con coperchio rettangolare io l'ho preso perché per me è l'ideale per tenere dentro un tiramisù per preparare un tiramisù metto questo coperchio e lo metto in frigo e mi trovo molto molto bene come tiramisù qua dentro metto anche a marinare la carne e la cosa bella è di questi contenitori che possiamo riutilizzarli tipo anche in frigo però anche in forno questi bottiglie con tappo sono fantastiche io li volevo da tanto e finalmente li ho presi li ho trovati sulla novità di di Ikea vi dico per cosa io li ho presi intanto voi potete usare dentro anche aceto olio sono molto piccolini carine e allora io qua ho preparato il peperoncino piccante ho messo un po' di olio e un'altra l'ho riempita con aglio prezzemolo e di nuovo riempio tutto con l'olio io lo tengo in frigo e mi serve per condire il mangiare ecco con questo olio qua lui lascia un sapore molto molto buono se vogliamo un po' di piccante aggiungiamo piccante poi mettete dentro quello che che vi sembra più utile ho preso anche la grattugia nei nox finalmente ho cambiato la mia grattugia e vi posso assicurare che la grattugia dai che la grattugia molto bene taglia molto bene e per me è un sì i prossimi sono questi sacchetti racchiudibili a fantasia allora e tanti di voi mi hanno chiesto sui video di sorgelamenti da dove prendo questi sacchetti per dove metto il cibo a congelare sono tutti dall'ikea e possiamo usarli anche magari quando rimane un po' di pasta rimane io di solito li uso per il congelatore e e e a il prossimo è questo bassoio un bambù allora questo bassoio io quando l'ho portato a casa mi è venuto mille e una idee come cosa fare con lui vi faccio vedere alcune cose giusto per darvi le idee però che datevi che talmente bello ha un colore molto molto bello molto caldo possiamo fare veramente tante e tante cose per cui ve lo consiglio un po' un po' un po' un po' un po' ecco ho preso il color beige con una fantasia bella è un colore tranquillo vi voglio mostrare come possiamo decorare bello anche un tavolo senza tutti questi centrotavoli senza tutte le cose costose importante ed amalgamare tutto bene tra di loro e possiamo ottenere un bello risultato ecco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.